Ciao bambini, oggi volevo raccontarvi la storia dell'orso Ugo e la casetta delle api. L'orso Ugo andava ghiotto di buonissimo miele. Una mattina si incamminò verso il bosco dove il giorno prima aveva avvistato un piccolo alveare. Le api sentinelle facevano da guardia alla loro casetta ed erano molto attenti a chiunque si avvicinasse. Ugo si accostò cauto e sfidando le api infilò il grosso naso al suo interno, dopodiché si udì un urlo di dolore che fece eco per tutto il bosco. Oi oi che male! esclamò l'orso irritato. Prima o poi le ucciderò quelle maledette api. Si trovò a passare di lì il suo amico Coby, un grosso orso che viveva nelle vicinanze. Cosa ti è successo caro amico? Ugo ancora sofferente rispose. Sono state quelle stupide api. Volevo solo mangiare un po' del loro miele. Giuro che le annienterò tutte quelle dannate. Io invece le lascerei lì dove sono, rispose con una certa calma l'amico Coby. Cercherei altrove qualcos'altro da mangiare. Per quale motivo? domandò Ugo. Devi sapere che le api in natura sono molto utili. Alcuni dicono che sono le sentinelle della terra. Forse possono sembrare un po' fastidiose, ma sono così sensibili da riuscire a percepire ogni più piccolo cambiamento della natura. Esse svolgono un lavoro davvero apprezzabile per tutti noi. Ugo rimase perplesso dalle parole di Coby, però ammise che l'amico forse ne sapeva più di lui. Poco dopo sentì gocciolare qualcosa di appiccicoso sulla sua testa. Era del miele che fuoriusciva dalla casetta delle api. Ugo e Coby spalancarono la bocca inghiottendone un po'. Era così buono che sembrava essere una manna dal cielo. Dopodiché Coby, rivolgendosi all'amico, esclamò. Come vedi, le api sono anche molto generose. Basta non disturbarle. Esse meritano tutto il nostro rispetto. E poi hai notato quanto sia buono il loro nettare? Certo, certo, rispose Ugo, mentre il miele gli gocciolava dalla bocca. Subito dopo sudì un leggero fruscio provenire sopra di loro. Numerose api fuoriuscirono. Tutte insieme dall'alveare formarono un grande cerchio simile a una corolla di fiori. Poi volteggiarono leggere nell'aria riproducendo una sorta di danza. I due amici orsi osservarono in silenzio quel sorprendente spettacolo. Ugo e Coby furono entrambi d'accordo nel constatare che le api in realtà sono gli insetti molto molto speciali. Poi, felici e soddisfatti, si incamminarono verso il bosco, consci che la natura sa donare al mondo cose veramente meravigliose. Ciao bambini!